Buongiorno a tutti, la recensione di oggi è sul film Scemo di guerra del 1985 per la regia di Dino Risi. Per parlare di questa pellicola dobbiamo inevitabilmente riflettere sul periodo, sull'epoca cinematografica in cui questo film viene alla luce, siamo negli anni 80, un decennio in cui il cinema è profondamente cambiato, voi direte ogni decennio il cinema cambia, sì, è vero, ogni decennio il cinema cambia, ma negli anni 80 il cinema è profondamente segnato dallo sviluppo della televisione commerciale sia in Italia che all'estero. L'utilizzo diffuso del colore ormai ha reso le produzioni di sceneggiati, serie tv, film per la tv, fiction, come vogliamo chiamarli, molto più accattivanti e che potessero in qualche modo anche fare concorrenza al cinema stesso, al cinema del grande schermo e questo sarà un problema da questo punto di vista che ancora oggi abbiamo e la pandemia non ha che moltiplicato il rapporto e anche la conflittualità tra grande schermo cinema per il cinema e cinema per la televisione. E anche il cinema bellico, come abbiamo già detto, negli anni 80 ha avuto un ristagno, abbiamo analizzato in molti video come la fine degli anni 70 rappresenta un po' un decadimento di idee, di intenzioni, di finanziamenti verso questo tipo di produzioni, di questo genere cinematografico, ma allo stesso tempo risente anche di uno stacco generazionale e questo nel cinema italiano è particolarmente evidente. Pensiamo come i grandi autori che potessero essere registi, sceneggiatori, attori della commedia all'italiana, quelli che hanno avuto il grande fiorire tra gli anni 50 e la prima metà degli anni 70, a partire dagli anni 80 hanno una certa decadenza sia a livello anagrafico ma anche proprio a livello di energie nel poter in qualche modo eguagliare, fare pellicole di un certo livello come quelle che erano state fatte nei decenni precedenti. Tra questi probabilmente si salva giusto Mario Monicelli, Mario Monicelli che avrà ancora ben 20 anni di carriera, anche se poi negli anni 90 diciamo che fa delle cose che non sono all'altezza di Mario Monicelli, tra cui il remake, cioè il remake, una versione nuova di questo soggetto, parleremo di Tobino, di Deserto della Libia, ma lo ne parliamo fra pochissimo, intanto continuiamo col discorso degli anni 80, in cui appunto si è un momento di transizione in cui i cosiddetti vecchi, questa generazione a livello attoriale sordi, Gasman, Tognazzi è un po' al tramonto, dall'altra parte abbiamo i grandi registi come appunto Monicelli, Risi, Comencini, quindi sono tutti quelli che sono sopravvissuti, Nanni Eloi, quindi sono tutti, e tra gli attori anche Lino Manfredi, dicevo, in questo senso vi è uno stacco generazione, è quasi una sorta di passaggio del testimone che viene offerto a una nuova schiera di attori, ma non sono solo attori, sono anche registi, sono anche sceneggiatori, pensiamo appunto a Verdone, Troisi, Benigni, per dire i più famosi, per dire appunto quelli che sono più caratterizzanti, che avrebbero dato un segno distintivo anche appunto nei decenni seguenti, vi è stato una sorta di ideale passaggio del testimone tra Sordi e Verdone, in qualche modo invece Troisi ha ereditato tutta la tradizione comica napoletana e Benigni si trova appunto a ridare da un certo punto di vista quella toscana, che poi avrà in competizione nel secolo, scusate, nel decennio successivo con i vari Pieraccioni e tutta quella corrente di Toscani, quindi c'eravamo in questo blocco, un blocco di transizione in cui i vecchi autori, i vecchi registi hanno necessità di modificare in qualche modo, ma modificare la propria impronta artistica comporta anche una sorta di storpiatura, di corruzione di quel che avevano detto negli anni 50, 60 e 70 e questo film secondo me rientra in questa logica, un film che ha delle pretese interessanti, che appunto parte dal soggetto di Tobino, il deserto della Libia, in cui si vuole affrontare il tema della seconda guerra mondiale, ma in maniera molto disincantata, vedendola in maniera molto retrospettiva, in cui il soldato italiano si colloca in quella via di mezzo che, da un certo punto di vista, è un elemento che torna anche nella storiografia, con enormi critiche dell'italiano brava gente, in cui in realtà l'italiano fa la guerra ma non l'avrebbe voluta fare, che molto spesso si trova a fare il medico, l'assistenza, colui che fa le strade, gli ospedali, quindi rientra anche in questo contesto di luoghi comuni, ma che da un certo punto di vista aveva successo ancora e soprattutto l'avrebbe avuto anche in ambito cinematografico. Pensiamo come da lì a cinque anni sarebbe arrivato Mediterraneo, con un impianto completamente diverso, perché poi ho avuto modo di, tra l'altro, come avevo detto in altri video, di intervistare Enzo Monteleone, che in quel caso è sceneggiatore di Mediterraneo, che aveva avuto, nel meno nella mia intervista, che si legava al rapporto dal cinema con l'avventura delle battaglie dell'Africa settentrionale, parlando di Alamane, parlavo anche delle rose del deserto e poneva delle critiche, riteneva che erano stati sopravvalutati, soprattutto nell'epoca degli anni 80 e 90, calibri come appunto Risi, Monicelli, che avevano dato molto, ma fino agli anni 70 dopo potevano benissimo andare in pensione e non avrebbero fatto un soldo di danno. Questa è in sostanza quello che mi ha dato la sua impressione Monteleone e onestamente vi sono delle simiglianze tra i due film, tra Scemo di guerra e Mediterraneo, ma in realtà poi l'espressione è completamente diversa. Si vede che un Salvatore ha anche un brio, ha anche una capacità di rappresentazione. Poi Salvatore sappiamo che rappresenterà le sue storie sempre con una visione sessantottina, con una visione con un cono d'ombra molto settoriale, però è una novità rispetto al tentativo di Risi di rappresentare il cinema negli anni 80 cercando di rinnovarsi e non ci riesce. Allora, tornando a noi, Scemo di guerra. Scemo di guerra parte dal soggetto, partendo dal libro di Tobino, almeno nella prima parte, sceneggiato da Agge Scarpelli, una coppia vecchissima, potremmo dire, molto antica della commedia all'italiana, che prende questa storia, la trasforma, la imbastisce un pochettino, la propone a Risi e Risi è convinto di questa cosa, vuole fare questo film. Tra l'altro questo film inizialmente si volevano chiamare degli attori italiani, si pensò a Vittorio Gasman per il ruolo di anziano, diciamo così, poi in realtà viene scelto Coluche, che non era ancora anziano, però diciamo questo ruolo. Poi questo film, ecco, la cosa importante, si colloca nella tradizione dei sentimenti, dei motivi, dei temi cari a Risi, pensiamo al rapporto tra generazioni diverse, c'è uno più amaturo, uno più giovane, che in qualche modo il maturo cerca di insegnare al giovane, questo è un elemento che torna, pensiamo al sorpasso, pensiamo al profumo di donna, quindi sono degli elementi cari a ogni regista al suo impianto in questo senso, pensiamo a Comencini che è sui bambini, pensiamo a Monicelli, il gruppo di uomini, pensiamo appunto a Risi con tre argomenti che tornano, torna sostanzialmente appunto questo rapporto generazionale, torna il rapporto tra follia e genio e torna anche il rapporto tra autorità, autorità e un po' anarchismo, questo è un po' anche l'elemento che ricorre nel cinema di Dino Risi e in questo secondo me è riuscito, nel senso questi sono dei temi che sono buoni, sono trattati in maniera efficace, il problema è che di fronte a una sceneggiatura non sempre fluida, non sempre che riesce a allegare i vari siparietti, sembra un po' degli sketch e questo arriva al discorso televisivo, questo film diventa veramente macchiettistico perché è una sorta di unione un po' la Benny Hill per capirci, degli stessi anni, gli stessi anni ha una fortuna immensa Benny Hill perché? Perché Benny Hill fa dei siparietti, degli sketch brevi, si attaccano e uno finisce e l'altro inizia senza una continuità e in questo film sembra simile a quel tipo di impianto narrativo, il problema è che è un film, è un film che dovrebbe avere una sua logica, è un film di un'ora e mezza circa, dovrebbe avere una sua logica dell'inizio alla fine, in realtà non si può poi limitare a dei siparietti e l'elemento che aggrava, secondo me aggravante di questa laguna è il fatto di scegliere degli attori che ricalcano questo stile e non ne portano giovamento, in primis abbiamo Beppe Grillo, Beppe Grillo che farà in totale soli tre film, questo sarà quello in mezzo, Beppe Grillo che è un comico televisivo, un comico televisivo che, stiamo parlando degli anni 80, ovviamente negli anni 80 ha un suo impianto efficace che ha una sua impronta, una sua validità, un suo pubblico ma ha su sketch di breve durata, un po' come Crozza, Crozza oggi è efficace, se lo metti su sketch di 5-10 minuti se gli fai fare un film non è capace, perché? Perché non è il suo mestiere e quindi ecco secondo me la scelta di Beppe Grillo con una sua linearità, una sua monotonia nel lungo periodo di un film rappresenta un po' un elemento stantio e l'abbinata tra Coluche e, che è vulcanico, Coluche gioca sul mettere e Grillo gioca sul togliere, però l'equilibrio è sempre instabile e quindi questo equilibrio non ci offre l'occasione che porta lo spettatore ad essere troppo coinvolto, ad essere troppo partecipe della storia, perché la storia poi sostanzialmente è molto piatta, è legata appunto a questo conflitto di odio e amore tra questi due personaggi che in qualche modo sono complementari l'uno all'altro che però hanno la consapevolezza di entrambi, seppur con sensibilità diversa anche appunto legate all'inclinazione di genio e follia perché entrambi sono potenzialmente geni e folli allo stesso modo, però questo equilibrio poi non si va a quagliare a rendere la storia efficace. Quindi questo è un elemento, poi per carità il film bisogna anche vederlo sotto l'aspetto produttivo, è una coproduzione italo-francese, ha necessità di combinare i due pubblici, tant'è appunto che venne tra l'altro presentato nell'85, mi pare a maggio-giugno in Francia, in Italia, venne presentato a Cannes, tant'è che è anche un elemento che qui viene enfatizzato come appunto viene presentato a Cannes, però in realtà poi a Cannes non è che vinca granché, nel senso che viene presentato, finisce lì e in Italia arrivo poi in autunno. E la necessità di unire anche dei blocchi di attori, pensiamo appunto da una parte Bernard Blier, che su me è sfruttato male, Bernard Blier che era stato utilizzato molto bene da Moricelli, pensiamo appunto anche a Amici miei, a Crimen, quindi diciamo aveva avuto a riuscire ai nostri eroi a trovare l'amico perduto, quindi Bernard Blier ha lavorato molto in Italia ma è stato utilizzato in maniera efficace. In questo film secondo me si perde, è sprecato e quindi anche Coluche con questa sua attitudine, tra l'altro secondo me è molto ben doppiato da Giuseppe Rinaldi, Giuseppe Rinaldi che era un doppiatore di calibro amplissimo, cioè veramente aveva doppiato Paul Newman, Van Johnson, ma aveva doppiato anche per esempio dei personaggi come Jack Lemmon, Peter Sellers in ruoli estremamente comici, estremamente anche grotteschi, che in qualche modo portano lo spettatore ad identificare quei ruoli con il personaggio interpretato da Coluche, questo Oscar Pilli. Quindi da un certo punto di vista vediamo Oscar Pilli con la voce dell'ispettore, sentiamo con l'ispettore Cluso e quasi lo identifichiamo e quasi ci viene, almeno per me solamente mi viene da ridere solo a sentirlo parlare e io penso alle battute, alle situazioni dell'ispettore Cluso, però in realtà non sto vedendo La Pantra Rosa, sto vedendo Scemo di Guerra. E quindi secondo me è un film un po' distrattivo, nel senso che porta a distrarre lo spettatore, non riesce a focalizzare la storia, ci si perde un po' nella scena semi-erotica, nel conflitto, nel... poi sono delle scelte un po' discutibili. Ripeto, Bernard Bliè è usato male, Fabio Testi insulso, pensiamo a Guido Micheli che lo conosciamo come il Bauscia, come il milanese è tipico, c'è una parlata, viene doppiato con una parlata siciliana, cioè, riesce un po' così, non riusciamo bene a identificare, a riuscire a trovare quei tasselli un po' buttati lì, sembra veramente che hanno svuotato un bidone con tante cose, ci sono tante cose, però tra loro non si quagliano, un piatto che è slegato, non riesce bene a risolvere la cosa, quindi questo secondo me è un elemento, anche Claudio Bisio, Claudio Bisio sta all'inizio, fa la sua figura, messo lì, e secondo me è anche indicativo come Bisio poi abbia avuto una crescita esponenziale nella sua capacità, nel suo successo, che è presente anche in Mediterraneo, quindi in qualche modo abbiamo degli elementi che tornano tra i due film, però se l'obiettivo era quello di creare un Mesh all'italiana, un gruppo di medici, un gruppo di stralunati, dove c'è un conflitto tra un medico e un altro, c'è la battuta, la barzelletta, anche un po' becera, secondo me rispetto all'originale, sia la serie TV che al film Mesh, siamo veramente anni, anni, anni luce. Quindi un film che aveva tante potenzialità, ed è un dispiacere, tornando a Tobino, come Tobino che abbia scritto un libro molto, molto interessante, in cui emergono anche dei temi legati all'antimilitarismo, legati al rapporto tra individuo e reparto, quindi in cui l'aspetto anche conflittuale tra aspetto intimo e aspetto collettivo possa non essere uscito in ben due pellicoli, ossia usando poi con calibri importanti di Norisi, con Scemo di guerra e poi Le Rose nel deserto con Monicelli, a non riuscire a vedere, era morto ovviamente, a vedere un film decente, passatemi il termine, per la sua opera. Quindi tutti e due i film sono un po' così, un po' distratti, sono questi film un po' di fine carriera, per Monicelli sarebbe stato l'ultimo, non a caso, 2005-2006, di Norisi avrebbe lavorato ancora, però sempre con film un po', sempre televisivi, le ragazze di Piazza di Spagna, quindi film un po' così, che magari facevano guadagnare, erano utili per il portafoglio, ma poi a livello artistico non era in risi di una volta, quindi non mi sento di dare una valutazione del tutto positiva. Poi ci sono degli errori, per carità, peccati veniali, il freggio di Pilli, che è quello dell'ordinariato militare e non è quello da me, della sanità, si parla nell'inizio del 41, dell'arrivo del maresciallo Rom, non era maresciallo Rom nel 41, quando arriva era tenente generale, quindi ci sono degli elementi un po' che non sono assolutamente gli elmetti molto brillanti, sia da parte italiana che da parte tedesca, è un film che ha delle grandi pretese, con un cast che aveva tante opportunità, ma secondo me è stato un po' sprecato. Come ultima curiosità, Coluche a partire dal 1980, nell'81, poi in maniera più concreta, aveva esternato una sua intenzione di candidarsi alle presidenziali del Fran, in Francia, e rischiò di vincere un parolone, nel senso che mostrò un certo seguito che preoccupava anche lo stesso Mitterana, si diceva che secondo un sondaggio così fatto all'impronta aveva almeno il 16% dei gradimenti, e il 16% era qualcosa di importante, visto che ancora non aveva ufficializzato nessuna sua candidatura, era un pur parler, però questo è indicativo e secondo alcuni Coluche, che aveva questa sua buttata là esternazione politica, questa sua vocazione, potrebbe essere stato l'ispirato di Beppe Grillo nei decenni a seguire nella sua futura esperienza politica. Non lo so, dovremmo chiedere a Beppe Grillo. Tra l'altro una cosa interessante, Coluche poi purtroppo morì l'anno dopo, un banale incidente di moto. Una cosa interessante, secondo una intervista che venne fatta a Dino Risi una quindicina di anni fa, si raccontò che molto spesso vi era un appunto, anche dietro al set, nel set c'era un rapporto conflittuale tra Beppe Grillo e Coluche che si volevano rubare la scena, a certo punto Beppe Grillo si infuriò e si dette malato, tant'è che le riprese vennero interrotte e la situazione era completamente in stallo. A quel punto Dino Risi ha fatto la voce grossa, ha fatto sapere a Beppe Grillo che se questa malattia finta si fosse protratta avrebbe subito una forte multa per non essersi presentato sul set. Beppe Grillo da buon genovese di fronte ai soldi dice no, torno a recitare e quindi il film poi venne realizzato. Quindi anche questa curiosità curiosità all'interno del composito, del composito articolato scenario di Scemo di Guerra che tra l'altro un elemento poi da concludere, vi prometto che finisco qui, Scemo di Guerra è un'espressione che nasce dopo la prima guerra mondiale per tutti coloro che erano stati traumatizzati dall'esperienza bellica, quindi un impatto emotivo, psicologico, di rigetto di confronti alla società, di malessere sociale. In questo film anche qui Scemo di Guerra è completamente snaturato perché il personaggio di Billy era scemo già prima della guerra cioè non è che la guerra gli ha comportato un peggioramento, anzi forse un miglioramento non lo so, poi non vi voglio spoilerare nulla, quindi vedete il film se avete piacere e lo scoprirete, però è un anche uso distorto, un po' desemantizzato del termine comune Scemo di Guerra. Detto questo, come alzo vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!